Questa mattina siamo a Casa Onna per la presentazione ufficiale della 45esima edizione del Fuoco del Morrone. Siamo con l'organizzatore Principe del Fuoco del Morrone dal 1980, ricordiamo. Floro, perché questa mattina a Casa Onna? Onna è un logo iconico di quello che è stato il discorso del terremoto e quindi anche del circondario della situazione che è avvenuta 15 anni fa. Noi ricordiamo proprio questo, oltre ai 45 anni della fiaccola, praticamente anche i 15 anni del terremoto e quindi faremo una serie di manifestazioni legate proprio a questa ricorrenza. Quindi Onna è stata scelta perché sta al centro di quello che è il cratere, non soltanto per quello, ma anche perché a Onna ci fermavamo già prima del terremoto, già dalle anni Ottanta e quindi questa per noi, ripeto, è un luogo del cuore, se vogliamo, per questo discorso della fiaccola. Quindi questa è la scelta principale. L'altra scelta è quella di, praticamente, di illustrare quello che sarà un attimino il discorso della fiaccola con varie iniziative che si terranno lungo il percorso e che poi espliciterò meglio nelle varie situazioni, insomma, per le varie comunità. Massimo Alesi è dell'Associazione Festa della Perdonanza. Allora Massimo, io vorrei che tu ci ricordassi una cosa importante, non perché viene dimenticata, ma insomma è sempre bene ricordarla. La fiaccola del Morrone, il fuoco del Morrone, è un pilastro del riconoscimento UNESCO di qualche anno fa. Assolutamente sì, oggi è un onore, un dovere anche essere a Onna, anche per questo motivo. L'UNESCO ha inserito all'interno del riconoscimento il percorso del fuoco del Morrone come parte fondante, sostanzialmente, del riconoscimento della Festa della Perdonanza Celestiniana come patrimonio dell'umanità, patrimonio culturale dell'umanità. Perché? Perché sostanzialmente è un insieme di attività tendenti alla riconciliazione, al senso della pace tra le comunità. Oggi qui si celebrano alcune cose. 45 anni della fiaccola del perdono. Siamo ad Onna, luogo di martiri della Seconda Guerra Mondiale, in cui questa comunità ha saputo rispondere con il sentimento della riconciliazione al più triste dei propri momenti. E questo sta nelle corde dell'UNESCO. Quindi io credo che oggi l'UNESCO debba considerare questo un momento assolutamente speciale e ricordarci tutti che la Festa della Perdonanza Celestiniana, oltre ad essere un momento lieto, gentile e sicuramente corale, è soprattutto una festa delle comunità. Questo dobbiamo portare con noi e per questo dobbiamo partecipare a questo progetto.